Un seminterrato condominiale trasformato in deposito della criminalità, un nascondiglio per armi, munizioni e refurtiva di diverso tipo. È quanto ha scoperto la polizia nel corso di una perquisizione in uno stabile del quartiere San Paolo di Bari. Gli agenti ci sono arrivati grazie alle rilevazioni del segnale GPS di una moto rubata e localizzata proprio attraverso satellite in un palazzo di via delle regioni nel cuore del rione periferico barese. Giunti sul posto i poliziotti hanno cominciato le ricerche individuando subito uno scantinato dove erano state parcheggiate due moto rubate, una Kawasaki ed un'onda SH. Insospettiti hanno ampliato le ricerche perlustrando l'intera area sino a scoprire una piccola nicchia di cemento armato al cui interno era stata nascosta una pistola Smith & Wesson 357 Magnum completa di proiettili, il cui furto era stato denunciato nell'ottobre del 2018 in una stazione dei carabinieri di potenza. L'arma era corredata di una scatola con all'interno altri 33 proiettili 387 special. Nello stesso posto erano stati nascoste anche tre targhe di motoveicoli, vari documenti di circolazione, carte d'identità, due carne d'assegni e sei apparecchi ricetrasmittenti. Tutto il materiale risultato rubato è stato sottoposto a sequestro. Sul nascondiglio sono in corso ulteriori indagini della polizia.